ci credevate in queste partite adesso vedremo il ritorno speriamo di ribaltarla come ha detto il mister prima speriamo anche se sta lavorando poche palle ti sono arrivati almeno di quelle che preferisci tu per andare non dopo i miei compagni ma va bene quelli che sono arrivati non sono riuscito a concretizzare ecco possiamo dire che magari dopo il primo con loro si è andato un po in difficoltà si è visto un bel gioco così ma dopo nel secondo tempo si è visto poco si può analizzare così la partita sì secondo tempo anche secondo me hanno fatto poco rispetto al primo però la partita come affronterete anche adesso la partita a vicenza ho chiesto al loro mister se magari con loro 2 a 0 hanno posto un sigilo importante per la diciamo per il passaggio di tu del turno ma detto che non dormono i suoni tranquilli voi andrete l'affreddita vostra partita cercando proveremo a passare il turno come ho detto prima nella speranza di fare due gol soprattutto se è possibile ecco giocare una partita così sul campo della prima squadra la tua emozione grande emozione questo stadio e con tanti tifosi che ci sostenevano